Un cordiale saluto a tutti voi, ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV, siete sul canale 17 che come sempre apre la sua giornata informativa con occhio ai giornali che è la rassegna stampa. Ma vedremo tra poco, ci sono anche le ultimissime della notte, cominciamo però, andiamo con ordine. Partiamo dal Santo, oggi mercoledì 15 luglio, la Chiesa Cattolica ricorda e fa memoria di San Bonaventura, Vescovo, il sole è sorto alle 5.39, tramonterà alle 20.49. Il tempo oggi si prospetta un'altra giornata di cielo sereno, temperatura alle 7.30 del mattino di 23 gradi e 6. Cielo sereno poco nuvoloso per oggi, con precipitazioni che possono probabilmente esserci anche se isolati nel corso del poveriggio sui Sibillini, quindi la parte meridionale delle Marche, venti a regime di brezza e il mare quasi calmo. Per domani, domani il tempo si guasta un po', nelle ore centrali in particolare nel comparto montano e collinare, dove sono previsti rovescio temporale sparsi durante il pomeriggio, le temperature in aumento, eventi deboli, però per quanto riguarda il settore costiero, quindi chi è in vacanza e chi è qui per andare al mare, insomma dovrebbe godere comunque di giornate prevalentemente di sole, bisognerà vedere se dalla collina qualche nube arriva fino al mare. Poi per venerdì 17 invece avremo cielo sereno poco nuvoloso, con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi, le precipitazioni potranno essere presenti sui Sibillini come sempre, poi temperature in aumento, il mare sarà quasi calmo o poco mosso durante il pomeriggio. Bel tempo sulle Marche anche nel fine settimana, con temperature ancora in salita in ulteriore aumento. Allora dicevamo delle notizie le ultimissime della notte, ovviamente questo per chi ci segue in diretta, per chi sta guardando la replica delle 13.30, già molte cose si sapranno ancora di più e con tutti i dettagli del caso. Andiamo sul sito di Occhio alla Notizia, il nostro portale occhioanotizia.it dove la notizia della notte riguarda un motociclista di 35 anni, residente a Pesaro, che è morto poco prima del luna, e qui entriamo dentro la pagina del nostro sito, dicevo poco prima del luna della scorsa notte in un incidente stradale che è accaduto sulla strada panoramica dell'Ardizio, a poca distanza dall'ex ristorante Alceo. L'uomo era a bordo della sua moto, una moto onda, e stava viaggiando in direzione Fosso-Segliore-Muraglia, quando a causa probabilmente della forte velocità o un sorpasso azzardato ha perso il controllo del mezzo, definito sul terrapieno che costeggia la strada. Nulla sono servite le manovre di rianimazione praticate dal personale del 118 di Pesaro, sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco, la strada piuttosto buia in quel tratto dove è avvenuto l'incidente e è rimasta chiusa per diverse ore. Questa è la notizia che trovate già online sul nostro sito internet, ma ne abbiamo altre due della notte che però non sono ancora pubblicate sul sito. Allora un tamponamento che c'è stato più o meno un'ora dopo, in A14, dove c'è coinvolti un paio di camion, tra l'altro uno di questi trasportava dei polli, polli che sono poi finiti in giro per la carreggiata. Questa non la trovate ancora sul sito internet, la redazione la sta lavorando, mentre da verificare, anche questa però è successa nella notte, quindi da verificare il tempo tecnico di fare tutte le verifiche. Insomma, pare che un uomo abbia tentato il suicidio a Fano e questo lo vedremo comunque sempre nel corso della giornata e tutti gli aggiornamenti come sempre nel nostro portale internet occhioallanotizia.it dove troverete anche tutti i servizi televisivi, tutte le produzioni, gli speciali e quant'altro e naturalmente anche la diretta televisiva. Vedete abbiamo inserito una finestra, ecco ci siamo noi ovviamente in questo momento, una finestra dalla quale potete vedere anche la diretta. Ok, è tutto, allora andiamo adesso a leggere i giornali e cominciamo dal resto del Carlino. Un 46enne, un 46enne di Tavuglia è morto cadendo dalle scale, il ritrovamento del corpo ieri, il giorno prima era andato in ospedale, si chiamava Dario Bassoli, 46 anni, celebre residente in via Borgo San Michele a Tavuglia. La casa era chiusa dall'interno ma i carabinieri non hanno dubbi sulla causa accidentale. La pagina di Fano invece, la cronaca, la guardia di finanza che ha scoperto una coppia che ha fatto sparire quasi 6 milioni di euro, tra questi anche i soldi che avevano ricevuto dalla provincia di Pesaro, sequestrata la villa di Mauro Marchionni e Susanna Dominici, sono marito e moglie di San Costanzo, giravano in Porsche e in Ferrari. Poi, scrive il giornale, vedremo perché, le accusano di bancarotta fraudolenta, truffa riciclaggio. Le loro ditte, la CAMSAS più altre, costruivano scafi e parti per la nautica in un capannone di bellocchi di Fano. La politica, i grillini chiedono la testa del sindaco di Fano Massimo Seri, Santorelli invece di progetto Fano batte sul problema delle multe per la vicenda relativa all'ambito sociale numero 6, appunto i grillini chiedono le dimissioni del sindaco Massimo Seri. Il centrodestra ci gioca su e presenta una t-shirt, non multa, no parti, questa è la foto pubblicata sul giornale. Santorelli è intervenuto anche, così come il centrodestra, anche la cucuzza, insomma sulla corsa soppressa o perlomeno la Fano dei Cesari, sulle manifestazioni che non ci sono, su un'estate un po' così, un po' sottotono, senza una caratterizzazione insomma un po' anonima se vogliamo. La corsa soppressa, dicevamo invece, per la Fano dei Cesari, per chi l'ha vista, per chi se la ricorda, purtroppo è saltata per una questione economica, una questione di soldi. E sempre l'opposizione, così dice, polemizza, Pesaro ci ruba il carnevale estivo, il sindaco dice invece non è vero, Santorelli e Cucuzza accusano ma il primo cittadino replica, sciocchezze, è un carro di quartiere. Poi si parla sul resto del canale di questa mattina di quell'incidente che ha veramente fatto stringere lo stomaco a tante persone che hanno ascoltato e sentito quella notizia, un fatto nazionale, due gemellini di sette mesi morti in un incidente stradale. Bene, l'autista incolpevole di quell'incidente, l'autista del camion, è un fanese d'adozione, un rumeno di 59 anni, è quindi fanese d'adozione, protagonista di questa tragedia avvenuta lunedì pomeriggio nel tratto toscano della 12, a causa di un imprevedibile incidente stradale hanno perso la vita Andrea e Luca Brambilla, due gemelli di sette mesi residenti a Inzago, Milano, lasciando invece in gravissime condizioni la madre Elisa di 32 anni che ancora non sa che i suoi figlioletti non ce l'hanno fatta a sopravvivere allo schianto. Si picchiano per un uomo, sono state assolte, un fatto che è avvenuto cinque anni fa davanti alla discoteca Trissi e Dischieppe di Orciano, due sorelle contro un'altra donna, c'è stato un pestaggio in discoteca, motivo del contendere appunto un uomo, sembra che piacesse a entrambe. Ieri, dicevo questo è successo cinque anni fa, ieri al processo davanti al Tribuna di Pesaro sono comparse le due, le imputatie residenti a Fossombrone e la parte civile. Poi sul caso del PD, ieri abbiamo annunciato che il PD pesarese aveva deciso di non rifare la festa dell'unità, anche se poi, insomma, non era proprio così, però vabbè. La festa dell'unità, dice il segretario, si fa, ma con un format diverso. Il primo giorno si parlava di Leopolda, Leopolda marchigiana, poi qualcosa è cambiato. Infine il delitto ferri, sempre in tribunale, condannate Sabanova all'ergastolo e i primi 18 mesi stia in isolamento, sono le richieste del pubblico ministero, per il complice Karim Bari, invece, sono stati chiesti 24 anni e quando esce si è subito espulso dal territorio italiano. Lui, che era in aula ad ascoltare, neanche una smorfia. La sentenza forse domani, oggi in programma le arringhe dei legali, la sentenza è prevista per appunto domani sera. Cambiamo giornale, andiamo sul Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro, andiamo a Fossombrone, dove il giornale mette in guardia i cittadini di Fossombrone, senz'altro, ma di tutta la provincia, ma che dico di tutta la provincia, di tutta la regione, ma che dico di tutta l'Italia, di tutto il mondo, nel senso che è un problema diffuso, anche se poi l'Enel è circoscritta all'Italia. Tornano i falsi ispettori dell'Enel, in un'abitazione hanno chiesto di entrare tre volte in un giorno, pensate, quindi non si scoraggiano affatto e quindi attenzione a questi falsi ispettori. Poi scatta il sequestro, siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, scatta il sequestro di Villa e Conti, bancarotta fraudolenta per oltre 5 milioni, denunciati due coniogi imprenditori. Ma guardate questa fotografia, davvero di cattivo gusto, di pessimo gusto. Siamo sulla Darsena Borghese a Fano, nei pressi della Liscia, si vede e non si vede, ma vi aiuto con la freccia. Eccola qua. Allora, quello è un bambolotto, una bravata macabra. Ieri mattina alla Darsena penzolava nel vuoto un bambolotto nudo con un cappio stretto attorno al collo e appeso ad una corda. Probabilmente, ovviamente, il giocattolo è stato appeso nella notte sopra l'inizio del porto ed eccolo qui. Sotto, la Fano romana si riduce a tre convegni, niente notte in costume e niente corsa delle bighe. L'assessore Marcheggiani è colpa dei tagli regionali ai servizi sociali. Bandiera blu e turismo, alla memo libro sulle strategie comunicative. Poi in gara a Sassonia 160 nuotatori, ecco tutti i vincitori. Da tutto il centro Italia alla manifestazione organizzata dall'associazione Fano più Sport. Poi, sempre dalle pagine del Corriere, il quotidiano delle Marche, la coordinatrice Battistini si chiude a Riccio. No comment, selezionata dalla giunta a Guzzi e confermata per tre anni dall'attuale amministrazione, ma da un anno e senza contratto di lavoro. I primi rilievi tecnici del Comune sugli affidamenti nel maggio 2014, un anno dopo le denunce. Esposto contro sé, richieste le dimissioni, decisa iniziativa del Movimento 5 Stelle che sospetta un atto falso e denuncia responsabilità politiche. Stiamo parlando ancora dell'ambito sociale 6. Ancora sul turismo, Fano ha le idee, Pesaro le realizza, è scontro sul carnevale estivo. Protesta Santorelli, replica la giunta, quella iniziativa è, quella di Pesaro, è un'iniziativa privata. Sul messaggero invece il giornale romano, crack della nautica, indagati marito e moglie. L'azienda di Fano ha chiuso nel 2012 la coppia denunciata dalla finanza per bancarotte e riciclaggio. I due si sarebbero intascati, anche fondi comunitari destinati a realizzare yacht ecologici, sequestrati dagli inquirenti beni per oltre 250 mila euro, tra cui figura una villa nelle campagne di San Costanzo. E poi sulla spiaggia di Numana un gatto manda al pronto soccorso un turista pesarese. Fa caldo e anche i gatti perdono la pazienza sulla spiaggia. Uno in particolare, ieri mattina nei pressi dello stabilimento del libeccio di Marcella di Numana, si è ribellato al passaggio di un turista settantenne di Pesaro a passeggio con un cagnolino al guinzaglio, con uno scatto imprevisto e imprevedibile, confiando la coda, insomma l'ha graffiato e l'ha morso. Il carnavale d'estate, siamo sulla pagina di Fano del messaggero per chiudere, scippato, fa litigare comune opposizione. La manifestazione pesarese in programma questa sera scatena le reazioni della minoranza. Dura replica del sindaco di Fano, serie di marchegiani, operazione mistificatoria che stravolge la realtà. Ma Santorelli e la cucuzza insistono, dicono la situazione è grottesca. Noi abbiamo le idee, poi Ricci, Matteo il sindaco di Pesaro, le realizza. Ora ci aspettiamo la Pesaro dei Cesari. E poi ancora sotto 200 multe nel fine settimana, incontro con il comandante dei vigili urbani, ma il sindaco specifica era già in programma. Trivelle in Val Cesano, Ricciatti porta il caso in Parlamento. E con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa. Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito internet occhiolanotizia.it e questa sera invece il telegiornale. Occhio alla notizia alle 20.30. Arrivederci. Grazie a tutti.